In questo video vi spiegherò brevemente come è possibile applicare un intervento di tipo metacognitivo e fenomenologico nella lingua italiana. La cronaca costituisce la tipologia testuale per eccellenza nella scuola primaria, che ha la finalità di sollecitare l'alunno a una riflessione sulle personali esperienze di vita. Non è difficile imbattersi però in soggetti che dichiarano di non sapere cosa scrivere. Non hanno cioè ricordi al riguardo. L'educatore è portato a ritenere che sia una scusa per non scrivere, ma non è improbabile tuttavia che il discente dica la verità. Come è infatti possibile non ricordare eventi significativi accadute poche ore prima, come una festa di compleanno, una città domenicale con la famiglia o una visita ad amici e parenti. La spiegazione la fornisce la fenomenologia e potrebbe risiedere nel fatto che l'alunno vive le situazioni in modo poco intenzionale e se non c'è intenzionalità nell'atto da apprendere non c'è nemmeno fissazione del ricordo. Esistono naturalmente interventi didattici molto utili per superare queste difficoltà. Ad esempio occorre rendere consapevoli gli alunni che la cronaca si costruisce mentalmente il giorno prima della prova in classe, attivando l'operazione mentale dell'attenzione necessaria per un'efficace riflessione. Molto spesso invece gli insegnanti richiedono ai propri alunni di svolgere la cronaca della domenica e lunedì mattina, accogliendoli impreparati, un po' di sorpresa, a raccontare gli eventi del giorno precedente, vissuti senza particolare intensità intenzionale e emotiva. Questa richiesta in attesa può produrre in un certo numero di alunni difficoltà a raccogliere e organizzare le idee. Da qui l'importanza quasi paradossale di fare la cronaca, naturalmente nella testa e non sul quaderno, il giorno prima. Se l'insegnante ad esempio annunciasse in anticipo il venerdì o il sabato ai propri allievi, alle loro famiglie l'esercitazione della cronaca in classe che avverrà il lunedì, mattina, avrebbe maggiori probabilità di ottenere dagli studenti dei risultati molto più positivi. L'utilizzo di procedure consapevoli possono essere adattate e adottate anche per altre tipologie testuali come quello regolativo, descrittivo, argomentativo, narrativo. Questi ed altri aspetti saranno quindi oggetto di trattazione all'interno del webinar sempre in un'ottica fenomenologica e metacognitiva. Con questo vi saluto sperando di incontrarti presto. Grazie. 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 Grazie.